Oggi parleremo di un lezione facile e semplice. Che sono gli ossidi? La prima cosa che dobbiamo sapere, è che i chimici suddividono i composti in base alle loro proprietà e agli elementi che li compongono. Come, gli ossidi, gli acidi e le basi. I sali. Andiamo con studia vero. Che cosa sono gli ossidi? Sono sostanze, che contengono l'ossigeno combinato con un altro elemento. Gli ossidi, sono classificazioni due gruppi principali. Gli ossidi metallici, le, anidridi. Gli ossidi metallici. Gli ossidi metallici, sono dovuti alla combinazione tra l'ossigeno e un elemento metallico. Gli ossidi metallici, spesso sono sotto forma di minerali. Gli ossidi metallici, sono solidi a temperatura ambiente. Come, gli ossidi di ferro, Feo, Fe, 2, O, 3. Gli ossidi di piombo, P, B, O, E, P, B, O, 2. Gli ossidi di rame, C, U, O, C, U, 2, O. L'ossido di alluminio, Al, 2, O, 3. I rubini sono pietre preziose costituite da un ossido metallico o l'ossido di alluminio, K, L, 2, O, 3. Il loro colore, è dato dalla presenza nei cristalli di ossido di cromo. C, R, O, 3. Le, anidridi. Le anidridi, sono dovute alla combinazione tra l'ossigeno e un elemento non metallico. La maggior parte delle anidridi, a temperatura ambiente e allo stato gassoso, come, diossido di carbonio, come, l'anidride carbonica, CO2, gli ossidi di zolfo, anidride solforosa, SO2, anidride solforica, SO3. Gli ossidi di azoto, come, NO, NO2, NO3, NO2, O3. L'ossido di silicio, silice, S, I, O, 2, uno dei componenti principali delle rocce, deriva dalla combinazione tra l'ossigeno e un semimetallo, e quindi non appartiene né agli ossidi metallici, né alle anidridi. Adesso parliamo di come si formano gli ossidi. Gli ossidi, sono, molto abbondanti nelle rocce che formano, la crosta terrestre, la parte più superficiale del nostro pianeta. Questi ossidi si sono formati durante il raffreddamento del magma emesso dai vulcani e nel corso degli altri processi di formazione delle rocce. Altri ossidi, si formano per l'azione dell'ossigeno presente nell'atmosfera sui metalli o sui materiali. Che costituiscono le rocce della superficie terrestre. Le reazioni in cui l'ossigeno, prende parte come reagente fanno parte delle reazioni di ossidazione. Come, le reazioni di combustione, sono reazioni chimiche molto rapide che producono calore. Le reazioni di ossidazione più lente, come quella che avviene quando si lascia una mela sbucciata esposta all'aria. O, quelle di emissione di anidride carbonica. CO2, e anidride solforosa. SO2, nelle fumarole vulcaniche.